Allora, questi progetti che vediamo qui, e qui sono due dei progetti dei corsi della scuola Comics Event Horizon dell'area Game Dev del primo anno. La scuola Comics insieme alla scuola Event Horizon organizza corsi nell'area Game Dev, quindi nello specifico corsi di Game Design, di Software Development e Real Time Graphics, quindi grafica per videogiochi. I corsi durano nove mesi, sono divisi, anzi otto mesi, sono divisi in due quadrimestri, nel secondo quadrimestri le tre classi si mettono insieme e lavorano dei progetti comuni. Quindi questi due che abbiamo portato oggi sono due progetti di cui siamo orgogliosi come scuola, io personalmente come insegnante di Game Design e i ragazzi adesso ve li presenteranno. Sono un esempio insomma del lavoro che facciamo ai corsi e niente, il secondo anno saranno ancora più belli i prossimi. Quindi, non so se parte Federico, parte Federico, con Agreed at Matters, ce lo racconta un po' com'è nato e come funziona. Allora, il nostro progetto si chiama Agreed at Matters ed è un puzzle game in prima persona, in cui il giocatore è immerso in questa dimensione parallela, in cui, diciamo, distante dal tempo, antica, ma al tempo stesso immobile. Il giocatore in questa dimensione è accompagnato da un artefatto che li permette di trasferire o assorbire energia cinetica ad alcuni oggetti che lo popolano. Questi oggetti sono definiti instabili in qualche modo e possono essere inanimati oppure accesi e il giocatore, appunto, ha la capacità di alterarne la forma per superare i vari ostacoli che si pongono. Quindi, tutti i problemi che si presentano al giocatore sono semplici operazioni di logica in cui bisogna tenere sempre a conto del trasferimento di energia tra gli oggetti. Sono forme semplici, possono comporre muri, ponti, andando piano piano sempre in situazioni più complesse. Questo è il primo livello che abbiamo realizzato e fa da introduzione alla meccanica base di gioco, ovvero quella del trasferimento di energia. In questa situazione, per esempio, il giocatore si ritrova di fronte a questa gigantesca montagna alla quale deve raggiungere la vetta, segnalata appunto da questo raggio gigantesco. Quindi, come dicevo prima, l'attività di Problem Solving si basa principalmente su questo trasferimento di energia, cioè il giocatore ha una carica di energia disponibile e con quella deve riuscire a gestire tutte le situazioni che si pongono di fronte a lui. La parte grafica è stata realizzata da tre ragazzi, da Beatrice, Alessandro e Luca. Si sono occupati dalla concept art, alla realizzazione dei modelli, all'illuminazione, e a tutto quello che riguarda il mondo di gioco, che abbiamo cercato di rendere l'interazione quanto più relativa all'ambiente possibile. Quindi rendendo il mondo qualcosa da esplorare per il giocatore, insieme a anche, come un po' la meccanica di per sé, permette di esplorare le forme degli oggetti trasformandoli, e anche il mondo stesso, quindi diciamo, è un po' una struttura misteriosa da esplorare. Grazie. Allora, noi iniziamo l'altro progetto che si chiama Blind and Dogs. Noi volevamo, sin dall'inizio, fare un cooperativo asimmetrico per due giocatori, in cui le meccaniche di ogni giocatore fossero in grado, in pratica, di abilitare il core loop dell'altro. Questo, nello specifico, dopo varie idee, siamo giunti a quella di un cane e di un cieco. In pratica, il giocatore cieco, come possiamo vedere, viene bendato, o comunque ha i nostri bellissimi occhiali oscurati, e non è in grado di vedere lo schermo. E quindi deve affidarsi agli input che gli vengono passati dal cane. Come funziona a livello pratico? Il cane è legato dal cieco tramite un guinzaglio. Quando il cieco fa tendere il guinzaglio a sinistra, al giocatore cieco vibrerà il remote sinistro. Quando il cane tenderà il guinzaglio a destra, al cieco vibrerà il remote destro. Quando invece tirerà il guinzaglio in avanti, vibreranno entrambi i remote. Il cane, inoltre, è in grado di abbaiare il ringhiare. Attraverso questi strumenti, il cane è in grado di crearsi un codice di linguaggio col cieco. E quindi di far capire al cieco i vari pericoli che ci sono all'interno dei livelli, e di comunque guidarlo alla fine di ogni ambientazione, evitando gli ostacoli. Ostacoli che ovviamente sono gli zombie, come in ogni videogioco che si rispetta. Il cieco può affidarsi anche all'audio, audio posizionale, quindi gli zombie fanno rumore, il cieco li sentirà più o meno lontani a seconda della distanza e della loro posizione. Quindi al cieco, il cieco ha inoltre a disposizione uno shotgun, con cui può decidere di sparare o meno giudicando la distanza dallo zombie tramite l'audio. Shotgun con munizioni molto limitate, quindi il cieco deve essere bravo a capire anche quando è il momento ideale di uccidere lo zombie. Nulla. Alla fine di ogni livello, inoltre abbiamo anche un replay che fa vedere al cieco cosa ha fatto in quel livello, perché poi giustamente fino a quel momento il cieco non ha idea di come si è mosso all'interno del livello. Il gioco in sostanza è questo. Applausi Grazie. 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 Grazie.